Quelli erano gli ultimi. Ottimo lavoro, Vice. Gli abbiamo fatto un bel danno. Irreversibile, direi. La setta sarà molto più prudente ora che l'abbiamo azzoppata. Ottimo per la resistenza. Così imparano. Vedere la gente che torna a Falls End non sarà granché ma è casa. Merda. Senti anche tu le voci? Lo sto diventando matto. Ah, è la mia radio. Da quel che ho sentito questa fate è nata come un cavallo. Cerco un'altra angolazione. C'è questa ragazza, Skylar. Una pescatrice pazzesca. Sta cercando aiuto per pescare... Mi chiamo Jack. E' la sicura. L'unico modo per liberarci da questa violenza è ricorrere ad altrettanta violenza. È triste ma è quello che dobbiamo fare. Grazie per il silenzio aereo. Eli e la sua milizia Whitetail sono su queste montagne. Sono armati e diffidano degli stranei proprio come piace a me. Ma è da giorni che non ho notizie di Eli. Immagino sia già in guerra con Jacob Seed. L'unica comunicazione che ho ricevuto è di mia nipote Jess. Dice che la setta ha trasformato la segheria in un campo di prigionia. Potresti iniziare da lì. Oh no! Hey, tirami. Sia l'ode al signore. Grazie. Continuo a sentire di questa Skylar. Non è al sicuro finché continua a cercare di prendere il suo ammiraglio. Qualcuno dovrebbe parlarle. Mi chiamo Jess. Cerco un'altra angolazione. Attenzione se becchiamo un posto di blocco. Vai così. Grazie. Grazie. Questo diventerà un racconto di guerra Concentrati lì Concentrati lì Grazie a tutti. Grazie a tutti.